Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo, ho 24 anni, sono un cantautore siciliano. La mia storia musicale inizia da quando ero piccolo, avevo 8 anni, ho iniziato a frequentare un coro, poi pian piano ho capito che il coro aveva troppi elementi e quindi volevo iniziare a cantare da solo. La mia canzone si chiama Ritornerò da te e parla di un antidoto alla negatività che ci circonda, ovvero l'unico modo per sconfiggere questa negatività e creare un rapporto sano con gli altri è riscoprire il rapporto con noi stessi, quindi è un po' in realtà un ritornerò da me, solo grazie alla serenità che ho con me stesso posso poi instaurare un rapporto con l'altro. Poi la potenza della musica, che è quello che spero possa succedere ascoltando questa canzone, ti dà la possibilità di riadattarla alla tua storia, quindi ognuno poi può interpretarla a modo proprio. Ciao!